E ciao ragazzi, oggi siamo qui, ritornati su Rainbow Six Age Oggi sono in compagnia con Peppe Karate Ciao Stasera ragazzi ci sono le Pro League C'è l'Italia contro altri, vabbè altri Contro chi gioca stasera Peppe? L'Italia? Sembra di sì No, l'Italia calcio, l'Italia qua di Rainbow ragazzi Contro chi gioca? C'è Evil Geniuses contro Cloud9 Ah sì, qua Non so qual è però l'Italiana Vabbè ragazzi, direi di iniziare con una bella multigiocatore classificata Ok ragazzi, primo turno è iniziato Mi sono preso il Bandit E Peppe Karate si è preso il Maestro Perché ragazzi dovete sapere che Il Maestro impara, ci fa studiare Non proprio, lui impara con il fuoco Con il fuoco Ora silenzio, ecco silenzio è giusto Mi hanno vissuto a terretto Sono nel garage Miglia quanta persone Tutti nel garage sono, non c'è nessuno qua allora Non sono morto io Mamma Qua barichetta raga perché E' importante intanto un bug Il rumore si è buggato Ah sono due, quali gli altri dove sono? Oh Mi sembra sono nell'altra Dall'altra parte? Forse Ok Ok E' bravo Sono tutti e due nel garage L'ho visto un po' Mi è sperato che qualcuno sponde il copero, capito? Ah ok E devo essere Dove Dovevo controllare, capito? Sono come cazzo faccio Io pari che qualcuno mi sponde il qua Mi ammazza male Zitto, zitto Fai più senso che puoi Beppe, anzi si staccata di microfono Così mi concentro In questo primo turno non ho fatto niente Ma Mi riprenderò Al secondo turno Ok ragazzi Secondo turno Iniziato Così drona prima Controllare chi c'è Credo che non c'è nessuno Di qua Andiamo Non c'è nessuno Di giù Non c'è nessuno Con attenzione Excarius Ragazzi È l'arma di bana Questa E quando sto sparando Si chiama Excarius Toc 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 Bip Bip Oddio Che headshot Che è un'altra Lo vedrai nel video Vero Peppe Questo 18 è assurdo Maria Mi sonato Ma mai è passato Ho visto che è successo Curami finta Abbiamo vinto lo stesso C'è raga mi si è buggato il joystick Lo devo cambiare Vai round 2 vinto così ragazzi Ok raga terzo Turno iniziato Stiamo 2-0 per una ragazzi Questa partita è senso unico Come abbiamo il vantaggio ragazzi Eh ma baricata raga Io non so del problema Con baricata nessuno Baricata raga dai mi raccomando Così c'è così L'eva E poi chi barrica come è mia nonna Boh C'è barricata io e tu Abbiamo baricato soltanto io e tu Come si fa io e tu Io non me la rischio Iscarius C'è il mio primo video ha fatto un sacco di visualizzazioni il mio primo video lo sai Quello di Rainbow Dov'è Sopra sotto In questa stanza Da accanto questa Bravo Fai peglietto eh Come sto fare i mafiosi Montagna di merda Oddio Non è che l'ha vista quello Allora ci posso pensare io anche a montagna Oh mio dio che ho combinato No Peccato Ho ucciso a montagna ma c'è blackbeard C'è blackbeard di là Attento Oh raga mi sono fatto montagna con le c4 Mancava blackbeard Facevo quasi full team si può dire Perché me ne mancava l'ultima kill E a destra Non morire Sinistra scherzavo Allora entri e c'è la trappola di frost E' qua Attento è qua E' qua mira sempre Vai No Peppe no Te lo potevi fare Ok allora raga Quarto turno Iniziato E noi ci andiamo da sotto Un consiglio mio Non mi gira più Oh So joystick mi da problemi Oh Con lo mio Mi da problemi joystick Perchè mi da problemi sto joystick Perchè mi da problemi sto joystick Cambio caricatore Cambio caricatore E muori Ok ragazzi Quinto turno Iniziato Spero che lo vinciamo Ma sono d'accordo per me che lo vinciamo Chiaro che qua avete un Gabrile Pirate Mostruoso Mostruoso Non mi vanto dai Cos'è no poi pensate che io Mi vanto E perché? Questi coglioni Come te l'ho detto Dove stavano? No Ah col bandit Col bandit No Porco due Dove è blitz No No Perchè ti metti il mezzo al cazzo Ok Grandissimi ragazzi Grandi Grandi Quello ha fatto 10 kill E abbiamo vinto Terzo raga Terzo Ma va bene così 5 kill Ci stanno Ho giocato bene Il primo turno Voglio salire ragazzi Che sta cavalcata Infine all'ora 1 Al massimo questo Poi per vedere la platina O diamante Ci vedremo 114 livello Ah quasi bronzo 1 Ora ragazzi Mi allena a fare le partite con Peppe Vediamo se li vinciamo Porta con me la squadra Ok ragazzi Spero che questo episodio di oggi Vi sia piaciuto Se fosse così ragazzi Pulisci in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al posto appuntamento Alla vostra Vi avrete parato Raga Ciao di con Peppe Me lo dite sotto i commenti E ciao ragazzi